il treno regionale 24 1 7 2 di treno orde proveniente da parma e diretto a brescia delle ore 5 32 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni eccetto borgo satollo il treno regionale 24 1 7 3 di treno orde proveniente da piadena e diretto a parma delle ore 6 e 01 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie il treno regionale 24 1 7 5 di treno orde proveniente da brescia e diretto a parma delle ore 7 29 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie il treno regio express 26 78 di treno orde proveniente da parma e diretto a mantova delle ore 17 13 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a colorno casal maggiore san giovanni in croce piadena bozzolo marcaria san michele in bosco ospitaletto mantovano castellucchio